Allo scopo di scongiurare il perdurare di gravi disagi alla circolazione stradale, nonché tutelare la pubblica incolumità, il sindaco di Capaccio, dottor Italo Voza, a seguito di colloqui intercorsi per le vie brevi con il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, ha inviato un dossier dettagliato sullo stato delle strade provinciali che attraversano il territorio comunale responsabile del settore viabilità e infrastrutture della provincia di Salerno, dottor Domenico Ranesi. In particolare le strade, strada provinciale 446, 276, 315, 43, 356, 318, 316, risultano essere in uno stato a dir poco pericoloso. Ho segnalato al presidente Canfora e all'ufficio provinciale competente, dichiara il sindaco Voza, il pessimo stato di conservazione e manutenzione di alcune importanti strade provinciali che attraversano il nostro territorio, chiedendo ufficialmente di intervenire con urgenza. Sono certo che, considerata l'importanza e la delicatezza della questione che riguarda l'incolumità pubblica e la preminenza di una zona come la nostra, interessata in questi mesi da un grande flusso di turisti e visitatori, la provincia di Salerno celermente darà riscontro positivo alla nostra richiesta.